La parola e azione è il tema della quarta edizione del premio letterario Libriamola nella quale autori, musicisti e attori per un'intera settimana dal 22 al 28 agosto trasformeranno il castello Angioino di Mola di Bari in un grande contenitore culturale. Un'edizione speciale, quella 2011, che si aprirà il 22 agosto con un omaggio a Enzo del Re, l'ultimo cantastore di Puglia, indimenticabile interprete dei bisogni della classe operaia scomparso a giugno scorso e ricordato in questa occasione da decine di artisti, tra questi anche Daniele Sepe e Vinicio Capossela. A seguire spazzo la letteratura il 23 con Staino, Timisoara Pinto e Piero Nissim. Il 24 agosto l'incontro con il Festival di Cinema e Letteratura del Racconto e il Film della cooperativa sociale I Bambini di Truffaut. Un appuntamento con il sociale per proporre al pubblico un film e un libro su un unico tema. La pellicola del 24 agosto sarà in Un mondo migliore di Susan Bier, del quale si parlerà alla fine con l'intervento di Giuseppe Villarusso, coordinatore nazionale dei volontari di emergency. Giovedì 25 agosto invece appuntamento clou ancora con la letteratura e con Mario Desiati, finalista al Premio Strega 2011. Tra i protagonisti di Libriamola, oltre a un Mister X di assoluto prestigio che sarà svelato nei prossimi giorni, anche Carmela Vincenti, protagonista di Donne molto occupatissime, monologo sulla donna del nostro tempo. La settimana si chiuderà il 27 con l'ultimo libro di Francesco Carofiglio e domenica 28 con il gran finale nell'anfiteatro del Castello Angioino. Sul palco i vincitori di Libriamola 2011, tutti gli incontri inizieranno alle 20 e 30. Una edizione di Libriamola dedicata a Enzo del Re, un grande uomo, possiamo dirlo. Una grande figura umana, prima di tutto, un grande artista, unico del suo genere perché voi sapete che è stato l'unico corpofonista che si è verificato qui in Italia solo come figura dedicata a un tipo di musica che lui non chiamava musica, anzi non voleva le note nelle sue musica, voleva solo le parole e i rumori. Abbiamo l'omaggio Enzo del Re, abbiamo lo spettacolo di Carmela Vincenti, abbiamo autori pugliesi che verranno a presentare i loro libri e quindi un omaggio alla nostra terra e una promozione alla nostra terra.